partimi con la base che abbiamo preparato regia e ciao e parte l'estate qual è il segreto del tormentone estivo ragazzi papicciulo no è lo spagnolo è vero è verissimo ora vi suggerirò quello che mi suggerirono negli anni 90 esatto leonardo pieraccioni e ceccherini e cioè per parlare lo spagnolo aggiungi una s è molto vero ragazzi dai al fine è quello e qual è l'unica cosa spagnola in questo momento che ha conquistato il mondo non despasito anzi grazie a dio ce ne siamo liberati non a tale strada ma alla cassa dei papel io ti do la parte più importante è la parte che è ora è in piessa e il matriarcado che è la frase che dice Nairobi in casa dei papel e io voglio che mischeta inizi il suo matriarcado da qui da poliradio su tutta milano su tutta italia da da oggi è in piessa il matriarcado da poliradio milano ragazzi quindi state attenti esatto quindi partimi con delle s sentiti libera improvvisa su questa base fatti trascinare dal ritmo ci siamo ragazzi siamo ragazzis hola hola a ora è in piessa il matriarcado non l'hai sentito ma è arrivato a ora è in piessa il matriarcado ah ah è arrivato bellissima e già ci abbiamo ritornato e già ci abbiamo ritornato l'ho fatto così e poi vai con la s sulla strofetta cosa possiamo dire ok aspetta ci sono anche le fonti da piazza a leonardo a porta a venezia il matriarcado la cabeza mi scoppia tutta vado di fretta e il matriarcado te batte la testa bellissima ragazzi so anche lo spagnolo l'ho scoperto adesso top ce l'hai ce l'hai we got it we got it ora è in piessa il matriarcado a ora è in piessa il matriarcado a ora è in piessa il matriarcado non l'ho cercato ma è arrivato a ora è in piessa il matriarcado ragazzi e via bene si fa tutta la notte così eh ragazzi abbiamo appena vinto l'estate e ciao e ciao e via e via ibiza e via si vola grazie